Un caro saluto da Diego Fusaro. In molti cominciano a domandarsi, a mio giudizio anche legittimamente, se possa realmente giungere in Italia presto un governo tecnico. Un governo tecnico sul modello di quello di Mario Monti del 2011 o di quello di Mario Draghi del 2021. È una domanda da non trascurare. Naturalmente si tratta di una possibilità, non vi è nulla di certo, ma non ci stupiremmo se realmente le cose dovessero andare in quel modo. E ciò in ragione del fatto che il governo della destra bluette di Giorgia Meloni sembra sempre più inadeguato, sembra sempre più incapace di mantenere le proprie promesse elettorali, che infatti sta disattendendo punto per punto, risultando al tempo stesso incapace di gestire e la questione economica e la questione migratoria. Ricordiamo che i migranti sono raddoppiati nel loro arrivo rispetto ai governi precedenti. Insomma, potrebbe essere anche una buona uscita del governo Giorgia Meloni che in questo modo forse aspirerebbe a salvare la faccia. Si tratta di una possibilità, intendiamoci, nulla di certo e tuttavia è una possibilità che non deve essere assolutamente trascurata. Mi spingo a dire, senza tema di smentite e senza perifrasi, che un governo tecnico è assai più pericoloso e più dannoso di qualsivoglia governo eletto, sia esso di destra, di centro o di sinistra. E soprattutto in ragione del fatto che mentre un governo eletto deve pur sempre in qualche modo rispondere all'elettorato, il governo tecnico non deve rispondere agli elettori, dato che nessuno lo ha eletto, e deve rispondere unicamente ai mercati e ai loro desideri. Ricorderete quando lo spread fece cadere il governo Berlusconi, si insediò la giunta economica di Mario Monti che doveva rispondere solo ai mercati. Qualcosa di analogo potrebbe accadere anche ora e sarebbe davvero qualcosa di drammatico. Mi spingo a dire che un qualsivoglia governo, fosse quello di Giorgia Meloni o quello di Ellis Line, sarebbe preferibile paradossalmente rispetto a un governo tecnico.